Musica 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 si va, oggi più alto che, così qua è contento come c'è? gira il cavallo si, adesso non è niente di fare partire se laggiù non lo fate che per non far rischi a nessuno? stai tranquillo scendete ragazzi, c'è tanto spazio mettetevi un po' più sotto qui iscriviti al canale Grazie.